Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 3 marzo, è Santa Cunegonda ed è la giornata mondiale dell'orecchio e dell'udito promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa giornata è un'importante opportunità per sensibilizzare sulle questioni legate alla sordità e alla perdita dell'udito, nonché per promuovere l'assistenza e la prevenzione delle patologie uditive di tutto il mondo. Nel corso degli anni sono stati fatti sforzi significativi per identificare le cause della sordità e sviluppare strategie di prevenzione e trattamenti efficaci. Tuttavia, la mancanza di consapevolezza e informazioni sulle patologie uditive ha ostacolato i progressi. Oggi è anche la giornata nazionale degli ignudi, ripieno dei ravioli, spinaccia e ricotta, ma senza la pasta. E' la giornata internazionale del Molled Wine, corrispondente al Vimbrulè italiano. Tra i nati oggi nominiamo Ronon Keating, 1977 e Francesco Polo Antoni, 1956. Tra i scomparsi ricordiamo invece la pilota automobilistica italiana Lella Lombardi, 1992.